ciao benvenuti un nuovo video e benvenuti nella mia sede estiva non so per quanto ma per adesso già facciamo andare bene allora questo mese sono tantissimo in ritardo con glissimi ma come avete visto anche dal titolo per una grande novità perché da questo mese collaboriamo con lissime box francese ma anche italiano quindi ci sono le due box divise ed è quella francese arrivata subito come sempre quella italiana mi ha messo un po ma ho voluto aspettare perché così abbiamo dello stesso mese due box perché dicono che ci sono ed dicono perché io come potete vedere ho tolto l'etichetta ma sono ancora chiuse ci sono prodotti diversi quindi anche per vedere se è meglio quella francese o poi italiana se c'è qualcosa di uguale lo vedremo allora come sempre partiamo con quella francese 16 euro 90 più spedizione 20 euro in totale ed è come sempre c'è nel codice sconto per gli acquisti partiamo con la francese e vediamo qui eccola blissime per popolo in verde ok ok allora la dolce vita per prepararsi all'estate c'è il codice qr come sempre per i palotti del mese e quindi adesso lo vado a scansionare così vediamo anche i pezzi aspettate un secondo allora direi di partire questa è la box inizia a vedere che cosa c'è dentro qui ho il telefono perché così vedo un attimo i prezzi senza spoilerarci troppo e partiamo alla sinistra andiamo a destra ok allora partiamo con questo rituals of sakura di rituals sugar cherry blossom body scrub ok uno scrub per il corpo sugare cherry blossom e ciliegio hanno sempre un profumo fantastico effettivamente per prepararsi all'estate uno scrub per il corpo ci sta la confezione è un 125 grammi eccolo qui e vediamo se c'è il prezzo 13 euro e 50 consideriamo che la box costa 20 euro andiamo avanti sempre da sinistra a destra per me e andiamo con questo che è maroccan oil all in one living conditioner revitalizzante tutto in uno idratante maroccan oil e si penso che ci sia la signora ciotola lì però è vuota e vuota e vuota ops dopo vado a tagliare e allora andiamo a questo prodotto che è un 20 ml quindi è per le punte dei capelli rivitalizzante senza risciacquo ed è districcante anche dopo la piscina perché no e andiamo a vedere questo che penso che sia un mini size perché un 20 ml 25 e 50 ma ah sì ah sì 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 del 20 ml wow costa questo prodotto già ripagata la box ma andiamo avanti perché io adesso vedo qui nux oil prodigioso olio secco multifunzione viso corpo e capelli è un 10 ml è fatto proprio a olio si a un profumo a un profumo è piccolino ma vi dura tutta l'estate sicuramente se non tutta buona parte dipende dove lo usate per i capelli per l'estate se iniziate sul viso poco poco ma un olio secco o se no per il corpo anche solo per idratarlo fantastico prezzo 18 euro e 60 ma di tutto di questa confezione però però andiamo avanti le canopè fluido pelle perfetta light fluid quindi leggero am tè bergamotto argilla rosa ok quindi adatto anche per le pelli miste e grasse 100% d'origine naturale certificato questo è un full size perché è un 50 ml questa è la confezione e andiamo vedete il prezzo 23 euro e 80 che ve lo dico a fare abbiamo già superato alla grande poi faremo un totale magari però mi piacciono questo aspettate che sto togliendo il per vedere il fluido e per il viso giusto si effettivamente è leggero non è neanche tanto profumato è leggero quindi per l'estate è perfetto intanto mi sono idratata anche le mali perché no ok è già assorbito e andiamo con gli ultimi due prodotti che vedo qui abbiamo facciamo questo per ultimo qui abbiamo morning street brightening shampoo argan e marula oil 50 ml per uno shampoo ristrutturante e illuminante è questo qui ok andiamo a vedere lo shampoo quanto costa marula 5 97 da questo su un travel sites però due applicazioni con questo si fanno sicuramente quindi ok andiamo a vedere l'ultimo prodotto che è questo questo della green barbes credo che sia una spazzola massaggiata si è una spazzola massaggiante per il corpo ma secondo me ma adesso la prova e poi vi dico vista che tutta in la stica e plastica anche per massaggiare i trattamenti che adesso stiamo facendo trattamenti rassodanti snelli impianti cellulite tutti quanti non dite di no gli state facendo anche voi massaggiare questo anche solo così o con un olio anche con l'olio di anux reattiva la circolazione oppure per usare il trattamento comoda mi piace mi piace e non credevo e invece ok quindi recappo spazzola shampoo fluido full size gommaggio della litos ecco anche la spazzola per fare il gommaggio balsamo perché evidente c'è lo shampoo balsamo e senza risciacquo della maroccan oil e per finire il nux che va bene su tutto assolutamente adesso mettiamo qui per non fare il confronto con l'altra comunque a conti infatti i prodotti sono più o meno guardando sui 100 euro considerate che la box e non pagate 20 euro l'abbiamo? No non è vero non sarebbe corretto e la box costerebbe 20 euro perché a me l'hanno inviata allora andiamo avanti e adesso guardiamo quella italiana che è la prima volta che la vedo da fuori è uguale ecco già qui cambiano le cose guardate che chiudo questa questa è quella francese verde con le righine gialle quella italiana è rossa con le righine blu quindi già si può un po riconoscere ma andiamo a vedere i prodotti la apriamo c'è sempre il solito foglio ok e così già occhi i prodotti sono diversi sempre 1 2 3 4 5 mentre in questa erano 1 2 3 4 5 più la la spazzola che comunque ha un valore quindi quella francese sono 6 mentre qui sono 5 quella italiana adesso scandalizziamo il nostro solito codice qr questo qui il solito e andiamo a vedere i prezzi e poi iniziamo a vedere che cosa c'è dentro allora io vedo già due cose che potrebbero essere uguali ad esempio lo scrub della rituals uguale identico eccolo qua quindi lui c'è sempre ma effettivamente ci sta sempre c'è di blossom e quindi questo l'abbiamo già visto poi andiamo avanti anche la nux sempre è uguale questo e questo ok e questi due sono uguali poi a questo punto vi dico che sono tutti diversi però attenzione vedo dei ragionamenti allora abbiamo le canopè crema universale idratante con baobab inulina e glicerina 50 ml è questa e abbia a un prezzo di 24 euro quanto costava 23 80 come siamo sempre lì ok e questa qui se vi ricordate adesso la proviamo ma in quella francese avevamo il fluido sempre alla stessa linea stessa marca mentre in questo c'è la crema andiamo ad aprirla e vediamo sì questa è più cremosa leggera ma cremosa quindi una per il giorno e una per la sera abbiamo tutte e due così si è più non è così fluida è più cremosa ecco quando scegliete le box vi fanno compilare un questionario dove ci dica il tipo di capelli il tipo di pelle quindi dovremmo andare quella più adatta a voi in questo caso il fluido francese è una buona idea con la mia pelle mista tendente al grasso quella italiana sì per la sera però perché un po' soprattutto adesso che iniziamo sul periodo estivo ma andiamo avanti perché vedo un'altra cosa morning street brightening conditioner argan e moral oil 30 ml questo è il balsamo vi ricordate che nell'altra box francese abbiamo preso lo shampoo quindi abbiamo il set ok questo è sempre la stessa linea vediamo il prezzo se per caso c'è 4 euro quindi ok e a questo punto noi resta l'ultimo prodotto perché sono 5 invece che 6 e questo non so cos'è allora le vie neutra a ombretti della cella che la travel size da 4,4 grammi andiamo ad aprirla no allora intanto è chiusa bene perché c'è anche il flurible ah è proprio una palette piccolina così carina però intanto andiamo a vedere il prezzo 17 euro e 90 gli ombretti sono questi manca uno specchietto manca tutto ma andiamo a swatcharla bello questo bello questo illuminante poi questi sono gli opachi quindi e tre belli e andiamo con l'ultimo che è loro a me piace carina carina come palette sono anche belli pigmentati ok questa era tutta la box che ho riappoggiato adesso la mettiamo così aspettati perché se no faccio un poccio non ho salviettine per le mani ma abbiamo già risolto allora... palette il rittualz il balsamo la crema e l'olio della nux e questa era quella italiana per un totale di circa 80 euro quindi un pochino di più il valore di quella francese ma anche ha un prodotto in più quella francese perché mi hanno detto ma io vi ho detto quella italiana i prezzi no forse quella italiana ha un costo di 16,90 euro però la spedizione è gratuita quindi costa meno di quella francese e altra cosa che vi devo dire non so se ve l'ho detta o no ma al massimo ve la ripeto Infobox Infobox c'è un codice sconto per voi per uno sconto di 5 euro sulla vostra prima box quindi perché non approfittarne anche per vedere i prodotti abbonamento sono mensile uno classico ne provate e basta ma non ha codice sconto oppure c'è quella trimestrale semestrale o annuale che andate a risparmiare qualcosina e niente queste sono le due box e da questo mese per non si sa quanto saranno cercherò soprattutto perché con le spedizioni in estate non so come andremo di fare il confronto tra quella francese e quella italiana finché vorranno lavorare con me va benissimo tutto ed è fatemi sapere voi quale preferite o quale vi abbonerete o quale vi piace di più anche per la città palotti io spero di essere stata utile e vi do appuntamento al prossimo video ciao 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 Grazie a tutti.